Fabio De Santis, quindi questi ragazzi sono pronti per questo appuntamento con gli italiani estivi? Un anno che faticano, abbiamo iniziato il 3 settembre, quindi arrivare ad agosto è dura, durissima. C'è da levorgiarli perché comunque non è facile. Diciamo che quest'anno finiamo il 12 agosto, quindi è una stagione molto impegnativa e lunga. Sono ben preparati, cercheranno di fare il massimo, come hanno fatto tutto l'anno. Quest'anno abbiamo finito bene con i campionati regionali, con parecchie medaglie, o qualcuno qualificato per gli assoluti, oltre a Melis, Ballarati, Ricci, anche Petronilli e Viola. Ricci hanno ottenuto il pass per gli assoluti, quindi il lavoro che è stato fatto è stato ottimo. Ora c'è da raccogliere queste ultime gare, da concentrarci e tirare il massimo. Coccio ovviamente ha le tante difficoltà alla stagione che si è allungata, c'è anche quella relativa a Palacalli con la chiusura. Purtroppo sì, è capitata questa cosa e speriamo che il Comune, chi di dovere, risolva più presto questo inconveniente, perché il nuoto di Civitavecchia, la pallanuoto di Civitavecchia non può stare senza lo stato del nuoto. Sarebbe una grande disfatta. Per queste tre settimane ci siamo organizzati, infatti ieri pomeriggio siamo andati a Roma, al centro dell'Acquaniene. Abbiamo svolto un allenamento in lunga all'Acquaniene, per una o due settimane non è un problema, faremo più sacrifici, però speriamo che da settembre, come tutti si augurano, lo stato del nuoto riapra le porte per tutti i cittadini e per tutti gli sportivi. Enrico Rovetto, insomma, vieniamo anche con Fabio De Santis, quindi un appuntamento fondamentale per chiudere a meglio questa stagione. I ragazzi si sono allenati bene, certo sono un po' stanchi, visto che siamo arrivati ad agosto, però speriamo, insomma, di riconfermare gli ottimi risultati di quest'inverno, dei campionati italiani invernali. I ragazzi si sono allenati bene e sono pronti per questa nuova esperienza. Siamo lì ragazzi della Costa Ragnere, partiamo con le femmine, appuntamento agli italiani estivi. Come sta andando, come vi state preparando? Tutto bene, dalle gare di categoria, disputerò le gare dei 50, 102 d'orso. Buoni obiettivi, l'obiettivo di rientrare in finale il pomeriggio, soprattutto con le mie due gare, il 100 e il 50. Io agli italiani farò il 50, 100 e il 2 d'orso, per ora gli allenamenti stanno andando bene, adesso si scaricherà per le gare della prossima settimana. L'obiettivo sarà quello di migliorare i tempi fatti quest'anno a tutte e tre le gare e finire bene la stagione, come tutto il resto delle gare. Io disputerò il 100 e il 200 d'orso, ho anche la staffetta 4% mista. L'obiettivo sicuramente sarà quello di fare bene e di finire al meglio la stagione. Gli italiani porterò la staffetta 4x200 stile, sono molto contento di partecipare. L'obiettivo ovviamente è di dare il massimo, di fare un buon tempo e ci stiamo preparando molto bene. All'italiani porterò 50, 100, 200, 400 stile, 200 misto e 100 delfino. L'obiettivo sarà finire in finale per la maggior parte di tutte le gare e dare il meglio. All'italiani porterò il 100 rana e il mio obiettivo è di dare il massimo e migliorare il mio tempo. Porterò il 200 stile, il 4 stile, 100 e 200 il fino. L'obiettivo è quello di migliorare su tutte le gare ovviamente e di dare il meglio. Farò 50 delfino, 50, 100 stile, le 3 staffette e l'obiettivo è quello di fare i migliori tempi stagionali e chiudere bene una stagione che poi per iniziare bene la prossima.